Oggi che state facendo? Stiamo rappresentando la chiesa immacolata. Per conto di chi? Della scuola? Della scuola Giordano Bruno Fiore di Nola. E chi è la organizzata questa? L'hanno organizzato quattro prof. La professoressa Vivenza, la prof. Caruso, la prof. Caruso, la dottoressa Solpietro, la prof. Carbone e la prof. Russo. E voi che accogliete? L'accoglienza che fate? Noi cerchiamo di accogliere molte persone per rappresentare questa chiesa che è molto bellina, anche se piccolina, però comunque ha la sua bellezza, sia interna sia esterna. E dico siete contenti? Sì, siamo molto contenti di questa cosa, più che altro anche soddisfatti. Siete soddisfatti di coloro che vi hanno insegnato? Sì, sì. Dobbiamo ringraziare soprattutto la prof. Russo che in pochi giorni, grazie alle sostituzioni a scuola, abbiamo imparato tutto e ora sono preparato. Bravi, bravi, bravi. Continuate. Quindi il prossimo lavoro non sapete? Non lo so. Sì, la dottoressa Solpietro ci ha detto anche che quando verrà restaurata noi rifaremo i ciceroni. Probabilmente. E rappresenteremo un'altra volta questa chiesa. Probabilmente no, sicuramente. Va bene. Va bene.